Ciao! Anche oggi video in diretta da la stazione di Venezia Santa Lucia, binario 21, treno regionale, non mi ricordo il numero, comunque quello che va a Verona, 18.05. Beh, sembro una squatter, un pochino, sì. Ho fatto cose, ho rotto, bordello, no scusate, sono appena uscita dal lavoro, ho preso un temporale, un quarto d'ora di morte e distruzione, quindi sono in stato pietoso, cioè, non so se si può vedere, magari, se no, vabbè, quindi meglio tenere il cappuccio, perché sotto sono a faiura. Comunque, andate adesso, ho caldo, caldo, vabbè, e basta stronzate. Allora, video veloce, più o meno, per una comunicazione importante, che chi mi segue su Instagram, sottolineiamo, chi mi segue su Instagram, vero, sa già, cioè che domani vado a Roma per il fine settimana con il fratellino. Quindi, se vedete girare per Roma una rimbambita che parla con la fotocamera, sono io, quindi fermatemi pure, così anche voi farete parte dei miei rinomatissimi blog, che non vanno mai in onda, vedi, quello di Parigi, no dai, giuro che mi impegnerò per pubblicare anche quello di Parigi, però veramente non ho neanche il tempo per dormire tra un po', quindi farò possibile, però... ecco, niente, quindi partiamo venerdì 22 maggio, mattina, siamo lì fino al domenica pomeriggio, ritorniamo indietro sempre col treno, quindi se magari volete che ci beviamo un caffè insieme, se siete di Roma volete mostrarmi qualcosa, perché è la prima volta che ci vado, quindi non so niente, e magari scrivetemi su Facebook, su Instagram, dove volete, e basta. E niente, ciao e baciati, a presto!